I laboratori ci permettono di attivare una didattica orientativa molto forte, cioè ad ognuno il suo talento. Io sono un grande fan della musia e qui il mio stile musiale sta ancora più crescendo, penso sia la mia aula preferita. Abbiamo numerosi gemellati elettronici che permettono ai ragazzi di lavorare con partner di tutta Europa in tempo reale. Noi lavoriamo con francesi, turchi e portoghesi. Ave discipule! Docents su lingua latina e lingue! Il metodo Orberg, un metodo assolutamente innovativo che consiste nell'apprendimento della lingua latina direttamente in lingua. Viva la pubblica!